L'appuntamento di quest'anno segna una data importante, i 25 anni dalla scomparsa di Gaetano Scirea, il fuoriclasse della Juventus e della Nazionale, scomparso in un tragico incidente d'auto il 3 settembre 1989 in Polonia. Per l'edizione di quest'anno del Memorial Scirea, il torneo di calcio giovanile, dedicato a uno dei campioni più grandi e vincenti dentro e fuori dal campo del calcio italiano, è previsto un programma eccezionale, con il record di 24 squadre partecipanti, tra queste due prestigiosi club internazionali. Nessuno all'inizio pensava che saremmo arrivati a fare la 25esima edizione di questo Memorial, siamo partiti piano piano e piano piano siamo arrivati alla 25esima, certo dopo 25 anni parlare ancora di Gaetano sembra una cosa incredibile, ma invece è proprio così. Da questo torneo sono usciti tantissimi ragazzi che sono nel nostro opuscolo che ogni anno facciamo e anche quest'anno e all'anno scorso, come sta negli ultimi anni, speriamo che qualche ragazzo segua queste orme. Lui era importante e bravissimo, prima di tutto sotto profilo tecnico, perché è stato poco valorizzato, perché lui aveva il vizio dell'assenza, lui non si presentava mai tolciò, non si presentava mai, era difficile vederlo parlare con un giornalista, lui era schivo, era modesto, ma in campo si trasformava e diventava un giocatore universale. Non per niente Sherea è un giocatore che ha fatto il libro nella Juventus, dove c'erano fiori di attaccanti, ma ha fatto 32 gol, quindi vuol dire che tecnicamente il suo valore è stato sottovalutato. Moralmente, come uomo, era fantastico. Io ho conosciuto tanti, io ho cresciuto io, e ho lanciato io e Gaetano Sherea modestamente, ho conosciuto tanti giocatori, lui aveva rispetto degli altri, soprattutto le persone più umili, e questa era una cosa che lo contraddistingueva rispetto agli altri giocatori. Ed è per questo che a 25 anni, appunto, della scomparsa, si ricorda ancora con grande, grandissimo piacere Gaetano. È proprio così, è una cosa strana, è una cosa quasi misteriosa, ma dopo 25 anni c'è gente che parla di Gaetano, quelli che lo hanno conosciuto gli viene ancora la pelle d'oca. Appuntamento con il Memorial Sherea al campo di Cinisello Balsamo di Via Cilea fino al 7 settembre, quando si disputeranno le finali.